Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Come state? Io spero benissimo, come sempre, io spero voi stiate perfettamente. Oggi sono qui per fare un video un po' speciale perché oggi che state guardando questo video è Halloween. Halloween, quindi buon Halloween, buon Halloween, buon Halloween. Fatemi sapere se lo state festeggiando, come lo state festeggiando, perché voglio saperlo. Io ho un po' l'impressione che Halloween sia una di quelle feste che in Italia non si festeggia molto. Io infatti non lo festeggio quasi, quindi ipo, però ho voluto comunque onorarlo facendo questo video. Un nuovissimo video true crime. Perciò, prima di dire altro e di iniziare a parlarci un po', ti consiglio di indossare un paio di cuffie o auricolari, di stenderti sul tuo letto e di ascoltare questa storia. Voglio chiederti un sacco scusa per il fatto di sentire un po' di caos in sottofondo, ma fuori piove, ma tanto, tanto, tanto e mi sono stupito di quanto rumore faccia la pioggia, perciò ti chiedo scusa di questo. Farò del mio meglio per far sì che questo rumore non si senta troppo. Quindi il video di oggi sarà appunto un po' parlato, così accontento anche chi mi scrive che preferisce dei video un po' più parlati rispetto a quelli di solo suoni. Ok, ma iniziamo. Allora, vado un po' spedito perché è un po' lunga. La storia che vi voglio raccontare oggi è la storia del piccolo James Bulger. Credo si pronunci così. Chiedo scusa se durante tutto il video pronuncerò i nomi delle persone in modo sbagliato. Comunque, James Bulger, un bimbo di due anni che sparì dal centro commerciale di Puto in Inghilterra il 12 febbraio 1993 e a rapirlo furono due bambini. John Venables, anche questo nome un po' difficile. E Rob Thompson, il corpicino mutilato del piccolo, fu ritrovato 24 ore dopo. Durante le ore del sequestro il tuo incontrò diversi testimoni. Pur vedendo un bimbo recalciante e sanguinante, nessuno intervenne. Per l'età degli acuzzini e la natura del crimine, il caso scioccò il Regno Unito. Questa era un attimino l'introduzione, ma adesso andiamo un po' più nel dettaglio. E' il 12 febbraio 1993 e sono passate le 15, quindi siamo dopo le 3 del pomeriggio, al centro commerciale Newstrain di Puto in Inghilterra, che è una cittadina di 77.000 persone circa, che si trova a 12 minuti da Liverpool. C'è un via vai di persone. Il clima gelido di quella giornata di mezzo inverno non ha scoraggiato gli avventori. Per i corridoi del grande complesso commerciale che serve la classe media di Liverpool, si vedono passeggiare studenti con lo zaino in spalla, gruppi di ragazzini adolescenti. Infagottati in pesanti pomper di colori vivaci, casalinghe, affacendate e bambini con le loro mamme. Quindi ci sono un sacco di persone in questo centro commerciale. Anche il piccolo James, di due anni, capelli chiari e occhi sorridenti, passeggia insieme alla sua mamma. Nel consueto giro di spese quotidiane, Denise, la mamma di James, deve rimediare qualcosa per la cena. E con un marito disoccupato, non è facile provvedere ai bisogni dell'intera famiglia. Infatti i bulger, o bulger, non so bene come pronunciarlo, non sono una famiglia benestante e la vita nel piccolo appartamento di Hot Tower in cui vivono non è facile. Quindi possiamo un po' immaginarci le loro condizioni, ecco, devono fare dei sacrifici per poter, come diciamo noi, arrivare a fine mese. Quando si volta la mamma, Jamie, James, non c'è più, è sparito. E quindi nello spazio di appena 4 minuti, dalle 15.38 alle 15.42, suo figlio è sparito. Le ricerche scattano subito. E l'incubo peggiore di un genitore si è avverato. Quindi qualcuno ha perso un bambino di due anni e si è allontanato nel monotono tram tram del centro commerciale. E secondo le statistiche, la maggior parte dei bambini scomparsi muore nelle prime 48 ore, quindi i primi due giorni sono super cruciali. Ricordando poi però che Jamie, James, in questo caso ha solo due anni. ma la famiglia è fiduciosa di ritrovarlo. Quindi i bulger e anche i poliziotti mettono a ferro e fuoco il complesso commerciale generale e l'attesa dura meno di 24 ore. Quindi Jamie, James, viene ritrovato in meno di un giorno. Viene ritrovato dove? Sui binari della stazione ferroviaria di Walton e Anfield sulla Walton Lane a circa 7 chilometri dal centro commerciale dove appunto era andato con la mamma. e viene trovato in questo e questa ferrovia in questa ferrovia viene trovato qualcosa che somiglia ai vestiti di un bambino un poco più di un anno che in realtà sembrano quasi pezzi di una bambola. si scoprirà però che questi pezzi di una bambola in realtà sono i resti del piccolo Jamie. e quindi in poco tempo la stazione semi deserta della periferia di Boutal arrivano la polizia locale e la scientifica ovviamente per condurre tutte quante le indagini. la scena del ritrovamento è uno degli spettacoli più strazianti che i poliziotti abbiano mai visto. James ha il volto imbrattato di vernice blu ricoperto di immondizia e materiale di risulta. il suo corpo è stato tranciato in due dal treno in corsa i calzoncini sono passati Roy Barter il coroner che esamina il corpo dichiara che in venticinque anni non aveva mai visto niente di simile dopo due giorni sui binari della stazione spuntano ogni tipo di fiore orsacchiotto, candele l'intera cittadina si scioglie di tenerezza e di dolore e ciascuno va a portare il suo personale dono omaggio appunto sul luogo della tragedia e a deporre un fiore sulla tomba c'è anche un bambino di dieci anni che si chiama Rob Thompson che anche lui lo stesso giorno alla stessa ora si trovava al centro commerciale insieme a un compagno di scuola John Vinables anche al funerale che si è fatto qualche giorno dopo ci sono ci saranno questi due bambini queste due figure intanto la televisione diffonde una foto estratta dal video dell'impianto di sorveglianza del centro commerciale nella quale si vede diciamo le ultime ore di vita di James si vede che questo piccolo bambino sta camminando mano nella mano con il suo assassino con appunto un bambino ed è un'immagine che atterrisce ma è sconvolgente e appunto l'immagine di questa persona che cammina mano a mano con questo bambino di due anni e un altro bambino di dieci anni la donna riconosce questo bambino riconosce questi due bambini che aveva visto al centro commerciale e riesce a identificarli in John Vinaples e Rob Thompson se riesco adesso vi metto qua la foto che viene condivisa perfetto e quindi questi bambini vengono prelevati e interrogati e in circa venti interrogatori andati in scena per due giorni consecutivi viene a galla la libertà la verità i bambini confessano di aver appunto rapito il piccolo e questi due bambini hanno marinato la scuola e si sono diretti al centro commerciale hanno rubato delle caramelle un pupazzo della vernice blu e hanno adescato il piccolo James lo hanno portato via e lo hanno iniziato a torturare a provocare delle violenze per esempio lo hanno preso per le caviglie lo hanno fatto cadere a testa in giù lo hanno portato appunto in questa ferrovia nonostante lui non volesse però le persone che lo hanno visto i testimoni che ci sono stati hanno pensato che fosse un bambino piccolo con i suoi due fratelli maggiori e che quindi stesse soltanto facendo dei capricci lo hanno colpito con dei sassi con una mazza e lo hanno abbandonato sulle rotaie e poi appunto il treno ha fatto il resto e i testimoni totali di questa situazione alla fine quando questa storia viene portata a galla si rivelano essere 39 però nessuno pensava che questi due bambini avessero rapito James e sta di fatto che appunto nessuno è intervenuto oppure la situazione non si sarebbe non sarebbe arrivata dove è arrivata bisogna però un attimo capire perché questi due bambini hanno fatto ciò e lo hanno fatto perché in entrambi i casi le famiglie non sono delle famiglie per bene diciamo che Thompson è figlio di una madre alcolista che è stato vittima di abusi sessuali da parte del padre Fine Bowles invece è figlio di genitori divorziati e aveva un fratello e una sorella affetti da un handicap e per questo era bullizzato dunque questi due bambini erano come due bombe ad orologeria che erano a tanto così da esplodere e lo hanno fatto appunto con James Bulger questo bambino di due anni le famiglie sono poi state costrette a trasferirsi e questi bambini appunto vengono giudicati ed è come dire strana l'immagine con cui questi due bambini non riescono neanche ad arrivare al banco degli imputati c'è bisogno di mettergli qualcosa che li tiri su perché sono troppo bassi essendo appunto dei bambini e quindi queste immagini in realtà provoca già qualcosa che ti fa dire dentro ma che cosa è successo e vengono la loro sentenza è di dieci anni di carcere che però poi vengono ridotti qui ad otto e al giorno d'oggi Thompson è uscito dal carcere e ha iniziato una nuova vita mentre Vinables è ritornato per una violazione di libertà vigilata e possesso e distribuzione di materiale pedopornografico e i coniugi Pulcher hanno avuto un nuovo figlio che promettono di tenere sempre d'occhio e quindi questa è la storia di oggi spero vi sia piaciuta spero di avervela raccontata bene se avete domande fateli qua sotto spero che il caos non sia stato troppo perciò fatemi sapere dai io ora vi dico cucù cucù ora tocca a voi iscrivetevi al canale se siete nuovi lasciate un like un bel commento e il video di oggi finisce qua ma se tu resterai ancora con me vai sul mio canale ci sono un sacco di video e di shorts che puoi vedere buon halloween sono veramente felice di avervi tenuto compagnia perché credo che molte persone passeranno il loro halloween a casa e quindi magari posso tenere io compagnia ma ora vi mando un bacio e buonanotte 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 Grazie.